buongiorno cari sostenitori oggi torniamo a parlare di vostro antipagnetic prima vi voglio ricordare se vi va di lasciarmi un like o di seguirmi sulle pagine instagram facebook che trovate nel nel link in descrizione e arriviamo al volo a parlarvi di questo orologio orologio vostro parliamo quindi di un antipagnetic sdelano cccp e ve ne sto presentando presentando parecchi ultimamente perché voglio arrivare a appunto a farvi più o meno vedere tutti quelli che ho in collezione questo ce l'ho in doppione e quindi vi posso far vedere anche come un orologio nos perché sono tutte e due nos può avere sfumature diverse nonostante il suo essere nos quindi è anche una un video diciamo tecnico che può esservi utile per altri motivi brevemente vi descrivo per l'ennesima volta di che si tratta il vostro candimagnetic è prodotto diciamo nella primissima serie che equivale alla prima metà degli anni 80 con un movimento 24 09 che non ha neanche la data e cassa albatros abbiamo una innumerevole quantità di dial di configurazioni per le lancette e tutto quanto quindi è questo il motivo per cui ne sto pubblicando un po per farveli vedere insomma quindi movimento manuale e la particolarità è che se noi andassimo a svitare il fondello quindi intanto dietro c'è scritto antimagnetic c'è scritto anfibia 200 metri eccetera andando a smontare il fondello come vi ho fatto vedere già in altri video avremmo una piastrina che appunto serve a proteggere in qualche modo il movimento da eventuali dall'eventuale influenza di campi magnetici quindi si può applicare questo l'utilizzo quando c'è bisogno di precisione e quindi quando si vuole salvaguardare quell'orologio quindi avere un orario preciso quindi segnare precisamente il tempo anche se si è a contatto di campi elettromagnetici quindi in ambito sia militare sanitario e tutto il resto in questo caso naturalmente è più affine all'ambito militare perché insomma l'orologia sovietica almeno nella sua estetica è affine a quello poi in vari casi possiamo dire che è rimasto solo un fattore estetico quello però questo è un altro discorso adesso vediamo un po questi tutti e due questi orologi sono nostri adesso ve li faccio vedere prima uno a fianco all'altro e poi vi vi dico brevemente di che si tratta in pratica il dial qui doveva essere un grigio molto scuro quindi un grigio scuro che tende quasi al nero e purtroppo con la luce non riesco ad essere precisissimo però possiamo vedere che questo che ho nella mia mano destra che adesso vi metto in primo piano è quello che si è conservato meglio dei due quindi è sicuramente stato sempre al buio almeno credo per quello che è ciò che riesco io a capire e quindi si è conservato come appunto dovrebbe essere le differenze con l'altro riguardano riguardano soprattutto il dial qui vediamo che c'è una screpolatura un effetto ragnatela sul dial che evidentemente è dovuto o all'esposizione al sole o eventuali raggiungimenti di temperature non dico temperature eccessive però comunque temperature che hanno portato a questo effetto questi piccoli graffi va bene sul vetro non rappresentano nulla perché si fanno anche nel conservare gli orologi insomma sono molto superficiali quindi possiamo vedere anche come un orologio anche NOS può avere questa particolare diciamo particolare questione sul dial anche il colore mi sembra un pochino più chiaro quindi secondo me è stato un po' diciamo esposto alla luce non tanto nel senso che se fosse stato esposto eccessivamente alla luce avremmo avuto l'ombra delle lancette che io giro quindi vedete che il dial è comunque uniforme nel suo nel suo sbiadimento che è comunque molto molto minimo e quindi io appunto volevo farvi vedere che può capitare a volte di avere un quadrante un po' arragnatela io lo definisco così per il resto vabbè stiamo parlando di due orologi perfetti insomma comunque è un NOS quindi per me equivale ad essere NOS nel senso che comunque non è una cosa fisiologica parliamo di un orologio di inizio anni 80 quindi fate un po' voi i conti ok spero di esservi stato utile facendovi vedere questa piccola particolarità che può comunque riguardare tutti gli orologi specialmente i Comandirsky e i Vostok in genere c'è questa cosa che succede abbastanza spesso e in alcuni casi è molto più evidente rispetto a questo un abbraccio vi ricordo di seguirmi con un like e ci vediamo con il prossimo video ciao